e a tutti. Parti però quando sei l'altro. Ok. Foto strana, eh? Non ci sono bambini, ci sono degli adulti. Allora, io sono Simonetta Zago, sono un'insegnante di scuola primaria e lavoro ad Aprilia. Questa invece è la giunta comunale della mia città, che è latina. Perché ho messo questa foto? Ho messo questa foto perché è un punto di partenza. Tra queste persone il punto di partenza è la scuola, no? Ci sono stati bambini del campo Rom che per due anni non hanno potuto avere l'accesso a scuola. Quindi noi parliamo di coding come di accesso alle nuove tecnologie. E tra queste persone, insomma, c'è chi ha permesso a questi bambini di tornare a scuola dopo due anni che non frequentavano. E quindi, così, pensando all'accessibilità, al poter andare a scuola e ad una città ideale, comunque, mi sono venuta in mente queste persone che sono partite da zero esattamente come parto da zero io in questo momento. Perché io non ho mai sentito parlare di coding, ne ho sentito parlare quest'estate, così, mentre ero a cena con degli amici e quindi sono stata, come si dice, spinta, invitata a partecipare a questo corso. Spero di... insomma, sto trovando l'entusiasmo e spero di riuscirlo a portare nella maniera più adeguata a scuola. Niente, è tutto qui. Grazie. 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 Grazie.